Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Il traffico è il momento regolare sulla rete autostradale regionale. In A12 segnaliamo controllo della velocità tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo, verso Rosignano, verso Livorno, cantieri aperti tra Sarzana e Carrara. Incipili possibili rallentamenti per presenza di personale su strada tra Montopoli e Ponte della Est nella carreggiata verso Livorno. Voltiamo pagina per il traffico ferroviario. A causa di comportamenti aggressivi da parte di un viaggiatore a bordo del treno 2335 Pisa-Roma e conseguente richiesta di intervento delle forze dell'ordine nella stazione di Albinia, la circolazione dei treni è rallentata nella tratta Grosseto-Civita-Vecchia dalle 7.40 di questa mattina. Il regionale 2335 è attualmente fermo nella stazione di Albinia con un ritardo di 90 minuti. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!